ciao raga oggi tanto per cambiare si fa un video su questo hm bellissimo bella moto è di un amico di mio figliolo è venuto via a mangiare poi purtroppo gli è presa l'influenza me l'ha lasciata a me fischia me l'ha lasciato a me e mi ci diverto io ora niente questa raga no ora qualcuno dirà il codine codino si codine dello squarna va bene qui fischia vabbè nulla ora vi dico cosa monta questo questo monta un due fast 77 di cilindrata se travasi scarico traversino pistone a 50 mm monofascia testa scomponibile lucidata specchio squish 0 5 raga 0 5 albero a spalle piene top performance corsa standard 39 cuscinetti c4 candela ngk bh r 9 e g che le quella aleridium chiamata non mi pare la chiamano in un altro modo pacco l'ammellare top fermo alza del top e fai montata troppo edition black edition scusate otto petoli carbonio tassi nari con lamelle malossi da 0 35 collettore mono force per 28 carburatore 35 micuni tm congetto del massimo da 35 da 350 scusami scusate il minimo 35 e le ancora da carburare perché mando a metterla guarda e tu apri fabbolo fa fintro malossi e 16 espansione entrai calcolata a 85 da cambiare una colata secondo le mie fasature e esigenze perché insomma dice da coccolare ancora parecchio e nulla accessione completi a mvt anticipata 0 4 decimi prima dei pms campana e spingi disco dopo a fermo fermo performance e nulla e muterino le queste raga volete sentire come canta io faccio sentire come canta io è un po troppo alto però siete pronti che canta o un canta questo cavalletto canta vai raga al prossimo video ciao